Avvio migliore Abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo migliorare ancora di più Però sono sicuro che durante questa settimana il nostro mister ci farà vedere Quello che abbiamo fatto di sbagliato, quello che abbiamo fatto di giusto Dobbiamo migliorare tanto perché settimana prossima avremo una partita difficili Dobbiamo farla, dobbiamo conquistare al minimo un punto, un pareggio O chissà una vittoria, per dare più tranquillità durante la stagione 6-7 punti nelle prime quattro partite, insomma tre intanto sono già in cassaforte È vero, io credevo dall'inizio, dobbiamo continuare con questo pensiero Sapevamo che non siamo una squadra di tanta qualità come tante squadre di Serie A Però abbiamo l'unione, la forza, la volontà, la voglia di vincere E quello è importante e sarà importantissimo per fare tutti i risultati durante la stagione Il pubblico di Verona, insomma ti ha accolto subito come fossi qua da tantissimi anni Insomma sei già quasi diventato, non dico un beniamino, però qualcuno ha urlato anche Romulo Romulo Posso dire una parola, fantastico, questo pubblico, questi tifosi sono veramente meravigliosi Grazie a tutti